Ciao ragazze, benvenute e bentornate in questo nuovo video e benvenute sul mio canale. Allora, oggi andrò a fare un video di pulizie, ma in un'ora, perché io oggi veramente non ho tempo, però comunque devo un attimino sistemare casa, soprattutto per quando rientro, per non vederla proprio magari in disordine o con qualcosa che non ho fatto, però ho solamente un'ora di tempo. E come prima cosa vado a prendere il mio emulsio e vado a spolverare. Cercherò di spolverare in più punti, diciamo, possibili della casa, perché comunque spolverare, secondo me, rientra in una delle cose importanti, ma quando siamo di fretta, ecco, passare una bella spolverata, oltretutto io utilizzo l'emulsio che lascia anche una gradevole profumazione, secondo me, ecco, è una cosina che ci troviamo magari il giorno dopo meno da fare e ci rinfresca anche la profumazione in casa. Mi sto un attimino concentrando di più qui sull'ingresso che va nel reparto notte, vado a togliere le mie candele, che io adoro, queste di Ikea, che fanno l'effetto fiamma finta, e poi, essendo comunque una menzolina nera, la polvere si accumula, ma si vede anche parecchio. Quindi, praticamente, questa è una cosa che vado a fare, diciamo, quotidianamente, comunque un giorno sì e un giorno no. E niente, quindi procedo con la mia salviettina cattura polvere, l'emulsio, e vado a rimettere le mie adorate candeline. Una veloce pulita con il mio Super Quasar, che comunque per me rimane il migliore per quanto riguarda la pulizia di vetri e specchi, e vado a pulire questo mobiletto qui sempre nel reparto notte, perché comunque apri e chiudi, apri e chiudi, avendo comunque lo specchio, rimangono sempre le impronte. E quindi vado a dare una bella pulita anche a lui. E quindi vado a dare una bella pulita. E quindi vado a dare una bella pulita. che poi uno dice magari è, ma tanto un'ora è tanto, invece no, passa super super veloce, un'ora in realtà è molto poca, e quindi non sembra, ma comunque ho già fatto abbastanza cose, perché ripeto, in un'ora non è che si può pretendere il mondo. Quindi quello che sto facendo per me per oggi è già sufficiente. spero di darvi motivazione, carica, energia, compagnia come al solito, e se vi fa piacere spero che vi iscriviate al mio canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i miei prossimi video. e se in un'ora mi avanzassero proprio gli ultimi cinque minuti, andrei proprio a fare la sistemazione qui dell'angolo divano, perché ci tengo veramente molto 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 che l'angolo divano sia al posto, che sia pulito, che sia aspirato, perché comunque lo usiamo quotidianamente, e soprattutto il tappeto che sia sempre ben aspirato, perché comunque Mattia ci gioca. Quindi questo, diciamo, e il bagno che dopo poi andrò a fare, vedrete, sono le cose principali che in un'ora devo assolutamente riuscire a fare. Grazie a tutti. Nel frattempo mi è finita anche la lavatrice, quindi prendo i panni e vado a spostarli nell'asciugatrice. Ora, mentre l'asciugatrice invece va, avevo un piccolo carico di panni e quindi faccio nuovamente una lavatrice. Ragazzi, ma voi quante lavatrice fate al giorno? Perché, cioè, io mi sembra di essere esagerata, non me ne rendo conto, ma tra Mattia, la scuola, cioè, docce, panni, stracci sporchi, strofinacci, cioè, io non lo so, io più o meno quotidianamente vi parlo di due lavatrici al giorno. Delle volte scappa pure la terza. Non lo so, magari sto esagerata io. Voi quante lavatrici fate? E come ultima cosa, ma come si dice sempre, non per importanza, mi sono lasciata il bagno, perché questo per forza, obbligatoriamente, ogni giorno, perlomeno io lo faccio, sto utilizzando l'omino bianco, la candeggina delicata che uso anche per la lavatrice, ma siccome ha veramente un'azione disinfettante e pulisce molto, molto a fondo, delle volte, e non fa nemmeno tantissima schiuma, delle volte vado ad utilizzarla per la pulizia del bagno, mi piace molto utilizzarla appunto sui sanitari. F*** 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 F***